salve ragazzi benvenuti a un nuovo tutorial sul linguaggio di programmazione java oggi parliamo di tipi e metodi generici siamo stati abituati fino ad oggi a lavorare su tipi di dati come int char double oppure parlando di classi integer double con la di maiuscola string e così via e questo cosa vuol dire che ogni volta che dovevamo implementare un metodo e passare dei parametri dovevamo necessariamente specificare il tipo esempio ho creato una classe chiamata stampa in cui prevedo con il metodo stampa contenuto di far stampare il contenuto di un vettore che può essere di tipo char di tipo double e di tipo int e il metodo come vedete è uguale cambia soltanto per il tipo di vettore passato all'interno del metodo con un ciclo vado a stampare l'elemento quindi con l'override ho ripetuto due volte lo stesso metodo definito all'inizio all'interno del main sono andata a creare un vettore di tipo int uno di tipo char e uno di tipo double ho creato un oggetto di tipo s e ho richiamato stampa contenuto passando una volta l'intero una volta il carattere una volta il doppio cioè i vettori creati in precedenza quindi in questo caso io ho dovuto ridefinire con l'override lo stesso metodo perché perché ho dichiarato il tipo di parametro passato con le variabili di tipo generico invece questo non succede io posso benissimo creare un unico metodo dicendo che sto passando un tipo generico vado a commentare queste righe e a copiare questo metodo la differenza in cosa consiste dirò che il metodo è un metodo di tipo generico con la lettera t messa tra il simbolo minore e maggiore e anche per il parametro passato dirò che il tipo di dato passato è un tipo generico quindi con t anche all'interno del vettore che ti ho passato è di tipo generico all'interno del men però devo andare a cambiare i tipi da primitivi a classe quindi questo diventerà integer questo sarà di tipo caratter e questo sarà di tipo double a questo punto vado ad eseguire e come vedete il risultato non è cambiato qual è l'utilità che anziché andarmi a creare tre metodi con l'overriding io ho potuto creare un un metodo dichiarando che il passato il parametro passato è di tipo generico quindi quali sono i vantaggi innanzitutto il tipo del dato viene verificato durante la compilazione non occorre effettuare casting dei dati qualora si dovesse passare da un tipo a un altro e posso implementare degli algoritmi di tipo generico proprio perché non devo specificare la tipologia di parametro per quanto riguarda le specifiche noi abbiamo visto la lettera t che riguarda il tipo però in effetti è possibile utilizzare la e nel caso in cui stiamo rappresentando una collection la k se stiamo rappresentando delle chiavi di cui ancora non abbiamo parlato n se sono dei numeri di diverso tipo v dei valori quindi ricapitolando il passaggio di parametri di tipo generico che vengono specificati nel metodo con la lettera t io ho modo di trasferire da un programma a un altro dei parametri senza specificare la tipologia tutto questo chiaramente facilita il compito del programmatore evitandogli di scrivere degli algoritmi e di implementare degli algoritmi col metodo dell'overwriting e magari loro completo utilizzo lo potremmo vedere nel corso dei futuri tutorial questo è tutto per questo tutorial vi ringrazio per avermi ascoltata spero di essere stata chiara iscrivetevi al mio canale e mettete un mi piace al prossimo tutorial al prossimo tutorial grazie grazie grazie